eeeh salve a tutti sono zoppibest e sono qua salve a tutti salve a tutti uno l'avete già sentito e fa deve fra su black ops 2 multiplayer per fare non dico una clown or ma un assaggio di clan war una piccola zona bsc versus sgr facciamo una sfida su new town in cerchi distruggi con 12 round il normale 12 12 round in 3 contro 3 deve deve quanto dobbiamo ararli quanto vuoi fare i 12 0 madonna 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 santi presente quando c'è la semina che proprio passi con l'aratro inizia a ravanare la terra è quello che stanno facendo davanti al campo qua davanti casa mia in questo momento ed è quello che faremo noi oggi perché sono convinti questa partita cazzo dimenticato la mimetica sulle msmc mi sa che questo ci farà perdere un po di round non importa allora ragazzi vi voglio carichi perché la convinzione per vincere questa cosa essere i più carichi possibili tipo senza anche camperare troppo il fuoco amico non c'è per fortuna o deve no lo ha marcato troppo ragazzi deve si fa la doppia così si è fatto la double non vorrei c'è me li fregati deve io non ho potuto fare niente a parte cercare di sbagliare un po di colpi su questo no no tra l'altro quello lì dove essere mio c'è l'ho sottato ed è chi vederà come io pingo benissimo ragazzi 174 cosa volete no se non è troppo facile se se va bene la connessione se andasse bene sarebbe troppo facile sarebbe troppo polisi easy proprio no tra cosa mister cristo devo cambiare arma cosa nemmeno 27 ma nel coltellato l'ho ucciso col coltello ragazzi ora dire che faremo 12 il camu guarda chi il camu guarda chi il camu guarda chi l'ho ucciso grande da un pugno coltello del collo glielo ho messo eh viti a deve essere entrato in panico in quel Se anche però il ping mi si abbassa io magari riesco a fare di più ecco che farmi ammazzare come un idiota anche perché Secondo me abbiamo buone possibilità di vittoria Speriamo adesso non possiamo far 12 0 deve quanto puntiamo 12 1 No 12 2 riesco a prendere non riesco a trovare 12 2 12 2 io quanto è forte questo qua che ha fatto la chicca Deve dice 12 2 debi dice 12 2 Lui dico 12 2 guardatelo guardate oddio mio Odio mio che qui lo scopo Ho smesso di mirare Lui ha fatto un qui scopo di quelli proprio bravo del quix Bravo deve adesso però ora Bisogna rare bisogna rare C'è stata l'inversione una volta Non li trovo mai fra mi stupisce perché di solito era un giocatore forte Era infatti io odio questo Deve con g4 c'è uno di sopra ragazzi Porca madoncina non è morto non so come mai non è morto Mi ha attaccato da dietro era tutto calcolato cos'è che vi agitate per niente solo una lagata poteva farmi morire in questo momento E per fortuna non c'è stato Io non mi sono agitato per nulla Notare la lagata notare la lagata notare la lagata Io come lago ma lago così tanto Io non me ne rendo conto ma Ma dio ma ho un ping che fa veramente cagare Vabbè Questo svantaggia il topo 90 Ma non importa perché convinti siamo Cazzo debe che score 7-2 Ne ho visti i giocatori giocare a code Ma come Ne ho visti di score Ma come la tua Ne ho visti di score nella mia vita Triato del crash Beach please Beach please 360 Ne ha ammazzato uno Oh Ma Oh Debe Debe fuori Debe dentro Debe non lo so cosa fai Debe cosa fai Madonna santa a momenti muoio Eh 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 Quasi Guarda il player Guarda il player Guarda il player Guarda il player Il controllo Il controllo Cazzo che mira ragazzi Eh ma perché stavo controllando bene il perimetro Si no era per spaventarlo L'hai fatto andare nella direzione che volevi Così poi l'hai colpito Ma io ti capisco Esatto esatto E hai detto minchiazzo L'ho sposto a sinistra Beach please Cazzo qua Quanto cazzo L'ho beccato con 5 colpi assist E Debe si fa Si frega La mia kill Non so come ho fatto a sopravvivere Signor zoppi best Sto facendo di più con il cecchino che con le armi Ah sta nerdando col cecchino ecco perché sta Si Minchia lag Contorni Hai preso il gradino dell'entrata della casa che hai scivolato per te È caduto Mi dispiace Allora allora Debe ancora primo Questo mi sconvolge Io direi di non posizionare troppo la bomba perché Eh beh Il fatto che Debe sia ancora primo mi sconvolge per il semplice fatto che Mi caro Debe Debe non devi sparare Vabbè Dov'è? Dov'è fra? Minchia mi ha terrorizzato Nooo Cosa hai combinato? Fail Notare il player Notare il player Guarda guarda Player Oh Not bad Not bad Not bad Not bad Bravo bravo fra Bello lui spara anche i muri nel dubbio Comunque Dubbio tirare sui quadri Debe mi sa che tra un po' dovremo perdere un round apposta perché se no facciamo 12-1 e non 12-2 Non vorrei essere troppo pessimista ma mi sa che succederà Cattivo Ah uno di loro al cecchino Al cecchino e corre col coltello Grande Ok è dalla macchina Debe Perché fra adesso ci muore No 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 Non riesco a coltellarlo Si Oh Dio 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 Sto jumpshot che non ho visti di jumpshot dalla finestra Ma come questo Debe ragazzi è è è un giocatore è un giocatore Tutti vorrebbero avere Debe nel clan Io quanto sono qua In un clan qualsiasi tutti vorrebbero un giocatore come Debe Tutti Infatti ora lo pagano pur di andare in un altro clan Penso che accetterò Cazzo hanno le frecce anche perché le frecce sono pericolosissime Voi non credete ma io ma io lo so No No Sono morto Questo mi ha spaventato Notare l'urlo L'urlo spaventato Capisci perché adesso Ma cos'era l'urlo? Ho filato la coltellata Eh succede di filare la coltellata Dobbiamo perdere un round signori Eh vabbè aspetta Aspetta arrivare a 11 intanto Perdiamola quando siamo a 11 magari O da 8 Ecco mettiamoci il problema più avanti possibile Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Dietela parete Uuuuh Vai Debe entro prima tu così se c'è qualcuno ti ammazza Dai ti ho salvato il culo Bastardo l'hai ucciso te Eh ti ho salvato il culo cosa vuoi di più? No Ti punirò Dov'è l'ultimo? Dio canno Non mi sembrava un zombie che mi corrava intorno Cosa? Mi corrava intorno Cosa? Fra prendi un'arma da terra No 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 Matrix Matrix Frati sega frati sega No Eh ma questo era il round che dovevamo perdere Dei bene il suo problema Era tutto calcolato L'avevamo chiamata apposta perché dovevamo perdere Abbiamo fatto 10 round e io ho ancora più il kill di tutti eh No 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 Guardate la scoreboard ragazzi Debe è il player Madonna Madonna santi E' quello con Ratti è un maggiore della squadra Lui è quello forte ragazzi Ma io sto usando il cecchino No fa niente sono forte io Esatto Dai cecchino a Debe vedrai che 360 ti fa Hai già visto il jump shot dalla finestra Cioè vuoi rivedere io Secondo me il cecchino ci sa fare Come quello di prima ci ha fatto una tripla di quelle proprio Fate bene Oh cazzo col fucile a pompa mi ha inculato Tranquillo Madonna 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 Non aveva speranze C'ero in ogni caso Mio dio come laggo Mio dio mi vergogno a vedere Come si muove il mio personaggio Guarda come cade l'allentatore il mio Bene Bene ragazzi Mi sa che adesso ti supero però a rateo Debe eh Occhio perché Porca madonna Aspetta no eh Bravo Eh no io non vado io non vado uccidere Io non vado uccidere Io non vado uccidere No no devo finire questa partita meglio di zombie Dai 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 Bravo Bravo che lei è ammazzato Scherzavo sul non uccidere nessuno Beh hai fatto bene Oh oh è nella casa Ok adesso è dietro nello spawn Bravo Debeli è lì Paragli Cosa smetti Debe Occhio che ti sta Ti prende dalla porta secondo me Bravo smallest Grande Debe Sei il player giusto Continuo a ribadirti che sei il player giusto E siamo a 10-2 Beh beh dai tra zombie bass con 200 di ping debba che che fa il camp Oddio c'è il cechino L'ho visto tardi Bravo C'è il cechino morto No 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 Debe non devi morire Debe Debe no Full team full team full team Ragazzi ha fatto full team ma vi rendete conto di che giocatore abbiamo nel clan No dopo ne facciamo un altro Subito che mettono le mani avanti questo Cioè guarda che kill Dio mio io lo amo Debe Dio santo spara attraverso le maretti Le maretti Le maretti Cosa sono Le maretti Camper E che adesso stanno molto sulla difensiva secondo me per non farci vincere Quindi ho paura di entrare in casa loro Morco giuda ero Ero in keystreak da quanto? Ero sanguinario figa dio Bene E' morto ragazzi Ma che cazzo hai fatto? Quello è morto eh Vabbè dai 10 da un di più 10 da un di meno capirai Bene ragazzi 12-2 La previsione di Debe Si avvera Lo sapevo Lo sapevo Debe indovino Come indovino io ragazzi Come indovina lui Ne ho vista di gente indovinare eh Ne hai vista Allora ragazzi Vi proporrei Voi che adesso mi state ascoltando Io vorrei proporvi di fare Giusto per concludere Se può farvi convincere Una quartier generale veloce Così vediamo chi fa più punti vince Non chi più kill Vediamo se ha punti Va bene va bene Accettano tutti i ragazzi Vai metti quartier generale Calzeggio su QG Ma mettila a meno di 200 Cioè abbassalo un po' Mettilo a 100 Se no dura troppo Giusto per concludere questa Mini clan war Tanti io sono sicuro che si casano Limite tempo cosa metto? Metto indefinito Metti Metti